Salve, sono Angela della Beable ed oggi vedremo insieme come configurare il Portec per l'invio massivo degli SMS, utilizzando i contatti presenti all'interno della rubrica di Zimbra. In questa maniera il Portec potrà essere utilizzato non solo per l'istradamento delle chiamate attraverso i cellulari, ma anche per ricorrenze e o l'invio di offerte appunto tramite SMS. Buona visione! La prima operazione da farsi è l'esportazione della rubrica di Zimbra contenente numeri di cellulare. Posizioniamoci in Preferenze, Importa-Esporta e, come tipologia di esportazione, scegliamo Contatti Account. Definiamo la rubrica da esportare, quindi nel nostro caso Contatti, e andiamo ad esportare il file. Il formato dello stesso è CSV. Il nostro obiettivo è quello di trasformarlo in TXT. Quindi, posizioniamo il file sul desktop per lavorarci meglio e andiamo ad aprire lo stesso con OpenOffice. Definiamo la tipologia del carattere come unicode e la tabulazione, al fine di suddividere il file esportato in righe e colonne. All'apertura del file procediamo all'eliminazione delle righe e delle colonne a noi non utili, quindi l'email, il nome, il cognome ed altre informazioni presenti nel contasto stesso. Definiamo il testo del messaggio nella cella accanto a quella contenente il numero di cellulare e ripetiamolo per tutte le righe trascinando il messaggio stesso. Andiamo adesso a salvare il file in formato .xls. Apriamo nuovamente il file .xls appena creato e definiamo la formattazione delle celle. Quindi selezioniamo tutto e come formato delle celle definiamo il formato testo. Andiamo a salvare nuovamente il file nel formato .csv. Questo passaggio viene eliminato se si utilizza Excel in quanto quest'ultimo permette il salvataggio del file direttamente nel formato unicode. Nella definizione del file esportato come tipologia di carattere inseriamo unicode e, importantissimo, come separatore di campo definiamo tab. Eliminiamo il separatore di testo e scegliamo OK. Adesso andiamo a rinominare il file .csv modificando l'estensione in .txt. Il file che adesso visualizziamo è quello corretto ed accettato dal software di invio SMS. Posizioniamoci su Google e digitiamo portekmv370 perché è il portek che noi adesso stiamo utilizzando e andiamo a scaricare il software per l'invio degli SMS. Questo software è presente dal sito ufficiale ed è possibile scaricarlo anche per le altre tipologie di portek, ovviamente che supportino l'invio dell'SMS e quindi che siano GSM. Una volta salvato il file, estraiamolo nella cartella stessa e andiamo a definire i parametri del software. Questo ovviamente deve collegarsi al portek e quindi dobbiamo definire l'indirizzo IP del portek, l'username e la password. Nel nostro caso l'indirizzo IP del portek non è lo 0100 ma il 192.168.0111. Assicuriamoci che sia questo, accedendo tramite HTTP allo stesso e infine salviamo il file. Andiamo ad eseguire il software stesso, quindi innanzitutto apriamo il file.txt precedentemente creato, rileverà la presenza quindi di due messaggi e poi andiamola ad inviare. Ovviamente nel caso in cui qualche programmatore volesse implementare un software che permetta la conversione del file esportato da Zimbra, da CSV in TXD, noi saremo ben lieti di ampliare il nostro video e fornire una soluzione migliorativa alla community open source. Gli sms sono stati inviati, quindi non mi resta che salutarvi ricordandovi di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook per ricevere sempre gli aggiornamenti. Arrivederci! Grazie a tutti!